Ma voi, gli inchiostri, come li archiviate? Come li organizzate? Quando dovete trovarli, compararli, mettere insieme due inchiostri che vi sembrano simili ma cercare di capire dove si differenziano? La risposta è in questo quaderno o comunque nelle carte per le prove di inchiostro. Oggi vi parlo infatti del quaderno del Colors Watch di Wearing Jewell, un'azienda che conosciamo più per quel che riguarda la produzione degli inchiostri, ma non solo quelli, infatti produce anche delle carte per provare, per fare proprio dei campioni da comparare. In questo caso però è un quaderno, quindi è già organizzato come ora vi mostrerò con degli spazi. È una carta da 200 grammi, quindi abbastanza consistente e soprattutto è fatta proprio per ricevere, per impregnarsi nella fibra l'inchiostro che viene poi depositato. Si può utilizzare per ordinare la collezione, per colore, per brand, insomma ci sono già, come vedete, i temi vanno solo riempiti, è quasi un divertimento per tutti noi. Comunque per dare un dato ci sono 40 pagine, quindi 360 calamai da riempire spazi per etichettare e classificare i nostri inchiostri. Lasciatemi dire che sono soldi ben spesi, perché comunque il prodotto è realizzato molto bene, è consistente, è piacevole, ma anche la grafica è senza dubbio pulita, risponde insomma a quello che è un po' il mio gusto. Ne ho presi però un paio, perché come li organizzo? Per colore, li organizzo per brand, sapete che è interessante farlo per entrambi i profili. E allora, stabiliti i criteri, si comincia a riempire, lasciando ovviamente sempre lo spazio magari di una paginetta per implementare le nostre collezioni e quindi anche le prove. La carta, come potete vedere, è di una grammatura più che è sufficiente, non solo per non essere imbarcata o comunque far passare l'inchiostro, ma anche piacevole al tatto, bella da sfogliare senza che il quaderno si danneggi, anche perché come vedete è raccordato da una spirale e quindi la carta deve avere una certa grammatura per evitare di lacerarsi e quindi nel tempo staccarsi. Più rigide le due copertine? Vabbè, ma andiamo a vedere come si comporta. Ho scelto oggi due inchiostri, due inchiostri che ho già avuto modo di presentarvi e che mi sono comprato perché ormai esauriti. Sto parlando del Candy Marsala della Fairy Wheel Press. Il Candy Marsala mi piace un sacco, ma a voi direte Marco a te piacciono tutti gli inchiostri che sanno di vino. Sì è vero, vi ho parlato del Diamond Merlot, dello Syrah, del grape e oggi vi parlo di questo Marsala Gentile che tra l'altro il Marsala, quello superiore, quello doc prodotto da alcune cantine è senza dubbio un vino assolutamente da provare, ma qui parliamo di inchiostri, una tinta satura, piacevole, ramata ma coprente, insomma a me piace e questo basta per farmelo acquistare. L'incarto come vedete è molto curato, bella la confezione con il colore che richiama la tinta dell'inchiostro e questo calamaio ce ne sono due versioni, questa è quella per così dire piccola da 38 millilitri che ricorda anche questa a sua volta un po' forse una boccetta di profumo, ma anche qui ritroviamo replicata la parte del Ferris Wheel Press che accomuna tutti gli inchiostri, questa doratura, ma dall'altra parte c'è l'etichetta con il colore dell'inchiostro che stiamo andando ad acquistare. Mi piace particolarmente il tappo in metallo, questo dado che sembra, sì appunto, un bullone e questa copertura che vedete rimane nel tappo a coprire l'inchiostro, serve, secondo me fa il suo lavoro anche se a volte rimane un po' attaccato, appiccicato al collo del calamaio, che non è così generoso, bisogna fare un po' d'attenzione quando andiamo a caricare le penne anche perché la stabilità di questa piccola boccetta non è proprio da 10 elode, eccolo qua, saturo, carico, arancione, ramato, bronzo, marrone, marrone chiaro, insomma chi più ne ha più ne metta. Questo è il Candy Marsala. Anche se devo smentire quello che ho detto poco fa perché in effetti recentemente è stata immessa sul mercato anche una boccetta, è il caso di dirlo, da 20 millilitri, quindi quella piccola sarebbe quella. C'è poi quella da 38 che è quella oggetto della prova ma anche quella da 85 millilitri che è decisamente più economica in rapporto, nel senso che costa una quarantina di euro ma ci sono anche 85 millilitri di inchiostro. Dobbiamo invece spostarci a 25 euro, talvolta 28 a seconda dell'edizione per quella da 38 millilitri. L'altro protagonista della prova è un inchiostro della Color Traveler. Mi piacciono tanto anche questi, se no non me li sarei acquistati. Ve l'avevo già presentato, il Seito Nakai è un blu, bisogna vederlo, lo vedrete fra poco, inutile che ve lo descriva così. Color Traveler, beh si capisce, un viaggiatore traveler, infatti la confezione è proprio quella di una valigia e dall'interno troviamo un kit, delle cose interessanti fatte proprio per far viaggiare gli inchiostri potremmo dire o la nostra fantasia. Una comoda pipetta ma poi abbiamo questa ampolla da riempire e una etichetta dello stesso tipo ovviamente dell'inchiostro che abbiamo acquistato da applicare e casomai possiamo regalare a qualcuno oppure tenerci un campione sempre a disposizione proprio come calamaio da viaggio perché questo è un po' il senso del Color Traveler. Tra l'altro colorazioni molto interessanti, più di qualche tinta decisamente da avere insomma perché sono ancora una volta degli inchiostri di qualità, ancora una volta però sono inchiostri che insomma hanno un prezzo adeguato al fatto innanzitutto che vengono un po' da lontano e quindi forse ci sono anche dei dazzi per l'importazione, chi lo sa, comunque insomma sono attorno ai 22-24 euro per i 30 millilitri del calamaio. Un calamaio che però a dispetto della capienza ci presenta un'imboccatura generosa, questo ci mette a proprio agio anche quando dobbiamo caricare delle penne di una certa stazza. I colori sono vari e tutti abbastanza intriganti, io ne ho quattro e sono già parecchi per uno come me, nel senso che ci sono tanti brand e averne quattro dello stesso produttore significa proprio aver colto nel segno. Seto Naikai perché sono inchiostri, lo abbiamo detto, color traveler che ci parlano dei viaggi nel Giappone visto che la sede comunque è a Hiroshima e ci dice che ci sono 3000 isole nel mare interno di Seto, grandi e piccole, il verde delle loro montagne contrasta con il mare, insieme creano una scena pittoresca, questo colore si ispira al mare interno di Seto e al profumo della sua dolce brezza marina. In realtà non è un inchiostro profumato ma non ha nemmeno un odore sgradevole, quello che colpisce è la tinta, bello profondo, scuro, anche qui potrebbe apparire ad un'analisi visiva nel calamaio tendente un po' al violaceo ma in realtà poi si ferma e si stabilizza su questo azzurro scuro, su questa bella tinta. Così come è curioso invece in questo caso l'aletta, la leggenda che ritroviamo sulla aletta ci dice che non deve essere utilizzato per altri scopi se non quello per la scrittura, bla bla bla, caricare, lavare e se viene a contatto con gli occhi e poi qui c'è proprio una cosa per Marco Chiari, rimuovere l'inchiostro dai vestiti è difficoltoso quindi fai molta attenzione durante l'uso, già sembra scritta apposta per me. Ed ora mettiamo davvero in confronto quello che è il colore che vediamo nel calamaio e quello che poi ritroveremo a riscontro sulla carta, sul quaderno Waring Eul. Secondariamente lo farò con il riscontro della stilografica su un blocco di carta comune anche questa volta da mettere in corrispondenza di quello che è il riscontro che abbiamo come vedete sul quaderno Waring Eul. Devo dire che è praticamente identico quindi non è una carta che vizia, che trasforma o vira leggermente il colore ma è esattamente quello che vediamo. A parte la prova che farò fra poco anche con l'altro calamaio, a seguire proverò invece a scrivere sul quaderno Waring Eul con altri strumenti di scrittura. Analoga prova, prova comparativa per il Seto Naikai Blue Black. Questo è il colore che nel calamaio, lo abbiamo detto prima, ci sono dei riflessi magenta che però poi non ritroviamo effettivamente nel riscontro visivo dell'inchiostro messo sulla carta. Infatti come vedete è davvero un Blue Black denso, pieno, corposo, così sul blocco, tanto sul quaderno della Waring Eul. Voglio provare adesso con altri strumenti di scrittura, quindi la Deep Pen, il pennino in vetro, che come vedete rilascia molto più inchiostro, con un pennino invece ad intinzione, ma è un pennino stilografico di Pilot, quello dell'Aero Utushi, ed infine con il pennino, quello ad intinzione calligrafico, il Pumpkin Browse, per vedere le differenze. E in effetti come potete notare, come sempre avviene, il segno, il colore più profondo, il colore più saturo, perché questa è la caratteristica degli altri pennini rispetto a quelli stilografici. Quindi, devo dire, prova superata brillantemente da parte di questa carta, di questo quaderno, che ho assunto ormai da un po' di tempo come il mio catalogo degli inchiostri. Seguire adesso la stessa prova con l'altro inchiostro, col seto Nikei, e come potrete apprezzare, il risultato è il medesimo. Fra l'altro, guardate la fittezza dell'inchiostro, che resta comunque un blu, un blu black, ma non diventa un nero, o comunque un blu talmente desaturato che non resta che ricordo del blu. È realmente un blu scuro, un blu nero, un blu notte. Un quaderno che sento di consigliare, anche se è più vincolante rispetto alle singole carte, che possono essere riorganizzate volta per volta. Però questo, secondo me, è il passaggio successivo, quello quando abbiamo già un'idea sugli inchiostri, o magari vogliamo farlo per brand, e quindi lo trovo come un'ulteriore raffinazione di un progetto di catalogazione che, senza dubbio, sulle carte è molto più agevole. Però qui è più ordinato ed è anche un bel oggetto, lasciatemelo dire, un bel quaderno consistente. Bene, sono molto felice di averlo provato, ne ho un paio comunque per i miei scopi. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.